Ancora piantaggine ammalate in tutto il mondo. La marijuana non esiste più. La marijuana non esiste più. Come se marijuana così grossa? Ci puoi aiutare a piazzarla. Le piante sono come l'uomo. Senta una femmina vicina. Senta una panina. L'ultima femmina di marijuana sulla terra. La tengono nel Museo Botanico del Vaticano. Poi ce la vedo un piano? Pensavamo di andare al Vaticano, entrare e rubare la piantina. Faccio la faccia del ragazzo svantaggiato e... Ma è pieno di merda, eh? E' del babbo! Ma che fa tu? La presenta, no? Come il film? Eh, l'esorcista. E' che la c'è sì, babbata. Mi c'è. Noi ci dobbiamo riprendere quelle piantin. Azzeric! Io vado a mettere le tite negli occhi. A mangiare. A ballare! A vomitare. Non pedire, non pedire. Piedre. Grazie a tutti